Papa Francesco poco prima del suo discorso ha sorpreso tutti con le sue parole. Prima di continuare ricordati di mettere un like al video, iscriverti e attivare le notifiche, per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. Papa Francesco ha annunciato di non stare bene di salute e di conseguenza ha rinunciato a leggere il discorso preparato per l'occasione. L'incontro avvenuto al mattino ha visto un Papa visibilmente affaticato mentre consegnava il testo scritto ai rappresentanti religiosi, senza procedere con la lettura. Il pontefice, che aveva un fitto programma di impegni e udienze pubbliche previsti per la giornata, ha spiegato la sua decisione dicendo «Succede che io non sto bene di salute». Nel pomeriggio era atteso un incontro con 7000 bambini provenienti da tutto il mondo. Non è la prima volta che il Papa ha affrontato problemi di salute. In precedenza aveva dichiarato di dimettersi, solo se la stanchezza avesse compromesso la sua chiarezza mentale nel prendere decisioni importanti. Il gesto di Papa Francesco ha dimostrato la sua dedizione all'importanza del dialogo e della pace, anche quando la sua salute è messa alla prova.